Benvenuti, in questo video mostreremo l'operatività di tutte le funzioni radio della centralina T011A della Tecno. Le funzioni associabili alla radio possono essere facilmente identificate mediante la visualizzazione della lettera R sul primo display, ovvero R0, R1, R2, R3, R4 ed R5. La funzione R0 visualizza i codici presenti in memoria. R1 permette la memorizzazione di un telecomando avente funzione di start, R2 di stop, R3 di pedonale, R4 di chiusura rapida. Mentre tramite R5 si possono cancellare tutti i codici presenti in memoria. Ad esempio, mostriamo come memorizzare questo telecomando sulla centrale. Sul primo canale del telecomando vogliamo memorizzare la funzione di start, quindi premiamo il tastino del telecomando che vogliamo memorizzare. La centrale ci indica la sua ricezione con l'accensione del puntino del display. Confermiamo la memorizzazione premendo il tasto C della centrale. Fatto questo, la centralina codifica il codice del telecomando in trasmissione. Sul secondo canale del telecomando memorizziamo la funzione di stop, mediante la stessa procedura. Sul terzo canale, infine, memorizziamo la funzione di chiusura rapida. Poniamoci ora sulla funzione R0. Come si può vedere, la centralina mostra i codici che abbiamo salvato in memoria. Adesso mostriamo come cancellare uno di questi, ad esempio il codice numero 2. Aspettiamo che il codice numero 2 venga visualizzato a display. Premiamo il tasto C finché i display non si spengono. In seguito rilasciamo la pressione del tastino. La centralina scandirà i codici che sono ora presenti in memoria. Notiamo che il codice numero 2 non viene più mostrato. Verifichiamo quanto detto selezionando ad esempio R1. Premiamo il tastino del telecomando che abbiamo cancellato e vediamo che a differenza degli altri due tastini, esso non viene più identificato dalla centrale. A questo punto vediamo come cancellare tutti i codici salvati. Andiamo sul parametro R5. Premiamo il tasto C finché la centralina non segnala SIF FISSO. Ora in memoria non è più presente nessun codice. Questo può essere confermato andando sul parametro R0.